Amici di Pizza Food e TV, bentornati nella pizzeria dell'Osteria La Fiamma di Macerata. Quello che facciamo oggi, per rispettare i tempi televisivi, ho già preparato una piccola pizza, è una parmigiana, una mia elaborazione della parmigiana. Sopra il disco di pasta noi mettiamo il pomodoro, mettiamo una fetta di melanzana rotonda che è stata passata al forno, una fetta di mozzarella di bufala, condisco con un po' di parmigiano, ripeto l'operazione con un'altra fetta, metto un po' di pomodoro, rimetto una fetta di mozzarella di bufala, parmigiano e vado al forno. Tiriamo dal fuoco Un ultimo tocco, aggiungiamo dell'ottimo, del fresco basilico, alcune foglioline e buon appetito!